Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi faremo la reaction al nuovo album di Taxi B Qua c'è il tablet e vi faremo questa reaction Oggi faremo la prima canzone di questo album E questo che si intitola Sets Pistols Andiamo, pubblicità Su questo invece risparmio del 60% Inizia Vediamo un po' il volume Un po' il video Sapete che cos'è questa? Un ca... Sì Una croce? Sì Già la foto del suo album iniziale è inquietante Perché sembra un giallo Perché c'ha due corna Ve lo sarò Mi piace Sì 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 La foto è pesante Sì Mi piace Per si bifo sempre le canzoni O che disto tanti Poi sulla canzone disto tanti Questo sorridornello C'è la legge La legge Perchè? Ha fatto la roba No Chi vuoi c'era? 1, 2, 3 Amore Amore tranquillo Non c'è nulla qui sotto No, no, no Dovete vedere sta scena Dovete vedere sta scena Che soffiata Amore tranquillo Non c'è nulla qui sotto Un gaiante Un gaiante Un gaiante Un gaiante E' una porzetta di morca E' una porza di coca Però per me che ci siamo Sembrano le carni alla sola Come da cibi ovviamente A questa cosa e basta resti con io ora lo sai che non ho bisogno muoce il colore e basta quando mi chiediamo da pola come è fantastico è fantastico come si fa fare per me o no tu ci dici io ci muoio ma lo sai che non ho bisogno davvero di uccidermi che rende adesso ci sono le immagini penso ci sono le immagini come la nuova canzone mi piace è molto bella è molto bella tranne le parti inquietanti però è bella ecco il mio voto è 8 e mezzo e quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao